Porte aperte alle start-up con un incontro dedicato ad imprese e professionisti organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dall'Associazione del Patto Territoriale Sangro Aventino e dall'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello. L'appuntamento si è svolto presso l'auditorium del Centro Servizi Sangro Aventino a Santa Maria in Baro. Interessante occasione per riflettere, confrontarsi e conoscere meglio start-up innovative grazie alla relazione di uno dei massimi esperti in materia, Marco Maceroni del Ministero dello Sviluppo Economico. Tutte le politiche che il governo ha posto in essere ormai a partire da 6-7 anni mirano tutte quante proprio a sviluppare un segmento nel quale l'Italia può tornare ad essere un paese profondamente competitivo, un paese in cui vengano sviluppate delle nuove metodologie, dei nuovi sistemi di produzione e forse un ambito sul quale si sta ancora lavorando poco nell'ambito delle start-up e che invece in una regione come l'Abruzzo e in particolar modo in queste province Chieti e Pescara potrebbe avere uno sviluppo particolarmente importante è quello dell'agricoltura. Non dimentichiamoci che quello che era nato come industria 4.0 è diventato impresa 4.0 perché si è allargato prima quello che è stato definito l'artigianato digitale poi l'agricoltura 4.0 e oggi è diventata impresa 4.0. Quindi attenzione a sviluppare in zone come queste in cui l'aspetto enogastronomico, l'aspetto dell'agricoltura in generale, dell'olivicoltura eccetera eccetera è molto sviluppato. Attenzione perché può essere un ambito in cui la concorrenza è ancora molto ridotta. Quindi è un'avvisa ai naviganti questo qui perché comprendano e si muovano in un ambito in cui c'è molto da lavorare. Mondo che corre sempre più veloce, il lavoro che cambia, nuovi servizi a disposizione, nuove opportunità. L'occasione è stata propizia per approfondire i servizi digitali offerti dal sistema camerale con Simonetta Cirillo, dirigente della Camera di Commercio Chieti-Pescara. L'obiettivo di stamane è quello di rendere conosciuti e conoscibili i servizi digitali erogati dal sistema camerale. Noi come Camera di Commercio abbiamo promosso diverse iniziative in questo primo semestre del 2019 allo scopo di rendere concrete le possibilità per l'azienda di semplificare la sua vita professionale, di semplificare gli adempimenti amministrativi verso la Camera di Commercio. Start-up e servizi digitali, gli strumenti innovativi per le imprese, ha visto anche la partecipazione di Valerio Carconi e Maria Belluzzi, due giovani che hanno avuto la determinazione di realizzare start-up di successo e innovazione. Imprese nuove dunque che rappresentano ormai una realtà molto diffusa con l'Italia sempre più caratterizzata da progetti meritevoli e di successo.